il napoli non può assolutissimamente permettersi di fare questo errore sarebbe deleterio e distruggerebbe quanto di ottimo lavoro eccezionale lavoro è stato fatto adesso entriamo immediatamente nel merito ho l'ermanito sono gia 7 quello che tiene le tette le racchette le lavagnette le rocchette non le manette perché non ho le mitragliette da anche la intro più cringe e meno divertente di tutta youtube italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo in un certo senso di calcio mercato e di voci di mercato parliamo del calcio mercato di quest'anno in generale facciamoci prendiamo una piccola pausa c'è una piccola pausa oggi saltiamo per questa mattina il punto sul calcio mercato in attesa di notizie un po più golose per parlare magari di qualcosa di più effettivamente concreto più piacevole è questo in ogni caso buongiorno buon venerdì è iniziato il weekend spero che vi divertiate spero che sia stata una settimana non troppo stressante se è stata stressante spero che vi godiate questo weekend al 100% anche nel caso in cui non lo sia stato detto ciò ragazzi vi ho salutato sì vi ho ovviamente salutato lasciate un bel mi piace vi ricordo sempre parliamo di quest'errore qual è l'errore che il napoli non deve commettere il napoli non deve commettere l'errore che ha commesso il milan il milan ha commesso l'errore di sopravvalutarsi questo che significa non è che il milan non abbia fatto mercato però il milan ha sottovalutato certi aspetti ha sottovalutato certe partenze e diciamo che è stato lo scudetto più breve praticamente degli ultimi anni perché il milan è stato spodestato a dicembre matematicamente no ma è come se lo fosse stato perché a dicembre il napoli era più 16 una cosa una roba del genere adesso non ricordo a febbraio a un certo punto erano più 19 se non mi sbaglio io non voglio questo io non voglio questo ben venga un'altra squadra che prova a scucirci il petto da dosso ma non deve assolutissimamente esistere che lo faccia con facilità che lo faccia senza nessun tipo di problema il napoli deve lottare in tutti i modi per trattenere con le unghie con i denti quello che si è guadagnato sul campo e deve farlo partendo dal calcio mercato perché il calcio mercato darà anche la dimensione del napoli perché c'è da stabilire quelli che saranno gli obiettivi rudy garcia è stato chiaro rudy garcia vuole vincere rudy garcia se gioca una competizione la gioca per vincerla parla di trofei di vincere trofei se tu vuoi vincere dei trofei devi fare dei passi in avanti il fatto che tu abbia vinto non esiste nel 2023 squadra che vince non si cambia non esiste da una partita all'altra figuratevi da una stagione all'altra bisogna puntellare bisogna ritoccare e bisogna farlo nel modo più giusto possibile non sto dicendo che il napoli non lo farà io sto dicendo che c'è bisogno di farlo e sto dicendo che l'ideale che c'è in giro che è sbagliato voi non dovete stare a sentire a quelli che dicono è tutto a posto sempre perché chi vi dice che tutto a posto sempre non capisce nulla non ha capacità di analisi non ha capacità di di pensire non ha capacità di approfondire perché dicono le stesse cose da vent'anni perché purtroppo loro non tifano napoli tifano per la società tifano per il presidente per le cose che fa il presidente che è una cosa sbagliata la verità è che bisognerebbe essere nel mezzo quando si fa una cosa positiva lo si dice quando si fa una cosa negativa lo si dice perché loro tanto si atteggiano del fatto che fossero convinti che il napoli era competitivo che il napoli fosse competitivo già ad agosto dell'anno scorso che dicevano il napoli avrebbe vinto lo scudetto ma ragazzi lo dicevano anche con rog lo dicevano anche con diavara lo dicevano con inglese pavoletti eccetera 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 è normale che se tu dici come direbbe il buon luciano spalletti domani piove e non piove dopo domani piove e non piove prima o poi la prendi quello bravo è quello che dice domani piove e domani piove se tu dici sempre che piove prima o poi pioverà così è e quindi non bisogna cadere in questa in questa trappola perché io già sento gente dire chi mi è andato via non fa niente stiamo bene così è sbagliato è sbagliato magari dite io fiducia nel fatto che la società prenderà qualcuno al livello di kim più forte di kim simile a kim ma che mi veniate a dire che il napoli è competitivo così perché lo facevate anche l'anno scorso perché anche l'anno scorso quando erano andati via in signa culibali eccetera 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 ancora non era arrivato nessuno dicevate che eravamo a posto così e che il posto di quello lo poteva prendere zerbin nel posto di quell'altro caetano avete zero credibilità mi dispiace ma su questo avete zero credibilità è un discorso molto semplice non bisogna essere pro a prescindere come non bisogna essere contro a prescindere perché altrimenti la credibilità si perde e quindi non bisogna fare l'errore del milan l'errore del milan è stato quello di fare sì un calcio mercato che secondo me ha portato dei giocatori forti perché ti ho per me un giocatore interessantissimo de ketteler secondo me uscirà frank secondo me è bravo origi è stato secondo me il grande fallimento dare un quadrino anche se a zero ma un quadrino alle 6 milioni di stagione a divo corrigli non lo capirò mai dest secondo me non c'è per niente male ad li per me un ottimo giocatore però è stato fatto un mercato solo per c'è come se mancassero poche cose al milan come se mancasse solo non lo so puntellare quella piccola cosa come se si trattasse di una squadra già ad un altissimo livello che deve fare quel piccolo passo e non è così perché squadre come il milan squadre come il napoli devono fare molto di più devono fare molto di più perché milan e napoli sono in un processo di crescita che va avanti da anni e quindi che significa significa che tu io ovviamente milan e napoli sono squadre diverse con esigenze diverse penso che il napoli abbia adesso due esigenze principali l'esigenza principale numero numero uno è quella di prendere un centrale che possa sostituire kim degnamente per quanto riguarda i titolari nel caso in cui andasse zielinski prendere un titolare che faccia la mezzala oppure che possa alternarsi con zielinski nel caso per non rendere zielinski il titolare inamovibile e ripeto questo per i titolari è un colpo sulla destra perché c'è un colpo sulla destra ovviamente senza uscita non si può fare il colpo sulla destra però però ci vuole però ci vuole il colpo sulla destra secondo me ci vuole assolutamente il napoli deve fare il passo in avanti lì perché lì che c'è stato il deficit principale questo per quanto riguarda i titolari ed è già tanto poi secondo me il napoli deve fare il passo in avanti definitivo e decisivo nelle seconde linee perché napoli per quanto riguarda la prima punta è messo benissimo sulla sinistra c'è elmas che è adattato e bisogna vedere se prendere qualcuno sulla sinistra sulla destra se tu prendi un titolare forte politano un ottimo comprimario vice anghissà non esiste il vice zielinski è elmas però già è il vice il vice valaschelia il vice lobotka è dem e bisogna prendere un sostituto ovviamente un dombele che ho detto vice anghissà che poi il vice zielinski sarebbe un dombele non ve l'ha fatto un poco di tutto però un dombele andrà via il vice di lorenzo bisogna vedere con i centrali se prendi un titolare stai messo titolare forte stai messo bene con i portieri se riscatti collini stai messo bene sulla sinistra stai messo bene però vedete bene detto bene tante volte che c'è tanto da fare il napoli è una squadra che deve essere puntellata che deve assolutissimamente essere puntellata che deve assolutissimamente assolutissimamente fare fare dei colpi perché altrimenti ci potremmo ritrovare nella stessa situazione del milan poi magari non sarà così però io non voglio rischiare questa cosa io vorrei che il calcio mercato per una volta dopo tanti anni ci facesse fare perché l'ultima volta che mi ricordo una roba del genere fu nel 2000 2013 2014 quando arrivò benitez il calcio mercato 2013 che quel calcio mercato ci fece fare proprio un passo in avanti o con quel calcio mercato ero convinto di vincere lo scudetto io vorrei un calcio mercato che mi convincesse di vincere lo scudetto ovviamente non si non esiste il calcio mercato che ti dà la certezza di vincere lo scudetto perché il lavoro sono le idee e una società sana tutte queste cose che ti portano a vincere uno scudetto però io vorrei un calcio mercato che ti dia quel peso lì per me questa sarebbe questo è il messaggio che napoli deve lanciare al resto della serie a poi magari parti comunque d'underdog però prendi giocatori che ti permettino che ti permettano di lanciare un messaggio mannaggia la miseria secondo me è quello il passo da fare quello quello che deve fare il napoli perché il milan esempio il milan da campione in carica l'anno scorso non veniva data favorita favorita veniva data juventus e inter perché hanno una rosa oggettivamente superiore al milan oggettivamente superiore anche al napoli poi negli 11 titolari si può sicuramente discutere per esempio il milan ha ceduto che si uno degli uomini più importanti del milan l'unico praticamente che ha saputo interpretare il ruolo di trequartista di pioli e non è stato non è stato sostituito perché dove su un trequartista puro come de kettler non l'hai sostituito a frankianic che si che ha mantenuto il centrocampo del milan per un bel po di anni c'è tanto ragazzi da ragionare qui c'è veramente tanto da ragionare per me andrebbe fatto una mini rivoluzione quest'anno come l'anno scorso e secondo me bisogna farla piano piano gradualmente magari l'anno scorso sono stati otto quest'anno cinque o sei quelli da cambiare poi piano piano l'anno dopo quattro poi magari ti ti stabilisci su una base di tre e piano piano ti fai la squadra di cui ha effettivamente bisogno magari una squadra di giovani una squadra una squadra non che non ti devi prendere motoris non ti devi prendere non ti devi prendere giocatore classico non devi prendere brozovic non devi prendere questa gente qui però devi prendere gente forte con stimoli giovane che ti possa portare un introito in futuro penso che su questo sia d'accordo anche il presidente aurelio dell'aurentis però bisogna farlo bene come si è fatto l'anno scorso e ripeto non bisogna peccare di presunzione perché se si pecca di presunzione si fa la fine del milan già c'è una differenza rispetto al milan dello scorso anno che è cambiato il progetto tecnico che non lo vedo necessariamente con un vantaggio ma per me spalletti ormai è intoccabile lui sta qua poteva portarci pure in b io non gli avrei detto neanche a però ragazzi la situazione è questa e penso che sia fondamentale detto ciò mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete facebook instagram twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche g7 shorts il mio canale dove pubblico tutte le clip momenti volici momenti divertenti del canale tiktok preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta lente forza napoli